Giuseppe Raudino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro posto delle parole per raccontarci, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo romanzo intitolato Quintetto d'estate pubblicato dall'editore Iannieri nella collana forsizia. Giuseppe Raudino, come leggo nelle svolte di copertina, è nato in Sicilia ma vive nei Paesi Bassi dove insegna giornalismo e teoria dei medi all'Università di Scienze Applicate di Groningen. Si interessa inoltre di scrittura creativa, interculturalità, storytelling, collabora con diverse riviste occupandosi principalmente di critica e analisi di testi letterari. Ora Giuseppe Raudino, già in queste brevi note che ho letto ci sarebbe materia di conversazione. Lei si interessa di scrittura creativa e va bene, interculturalità e storytelling, ma in che modo la sua attività attraversa anche la parola interculturalità? Beh, innanzitutto la attraversa per la ragione per la quale mi trovo io in Olanda, all'estero. Si tratta di un corso di insegnamento in inglese, quindi la lingua inglese, il corpo docente ha il background, ha la nazionalità, è formato da diversi professori con diverse nazionalità e gli studenti vengono da tutte le parti del mondo. Quindi già questo è un miscuglio che genera domande, perplessità, promiscuità, è un miscuglio che genera confronto e il confronto può essere ognuno dice la propria e poi magari resta sulle sue oppure davvero si lavora insieme per cercare un punto d'appoggio, un punto comune tra i diversi valori e diversi modi di vedere il mondo. Il famoso punto di caduta di cui ogni tanto sentiamo parlare per oggi come oggi. Mi interessa anche Giuseppe Raudino, prima di addentrarci nella storia del quintetto d'estate, seppur brevemente parlare di quello che lei insegna giornalismo e teoria dei media all'università. Ora oggi parlare di giornalismo, fare il giornalista è un mestiere molto difficile e penso che sia ancora più difficile forse occuparsi di giornalismo insegnandolo e insegnare la difficoltà di questo mestiere. Com'è Giuseppe Raudino? Io penso che insegnare giornalismo sia molto semplice, applicarlo e fare del buon giornalismo sia diventato molto difficile. Il giornalismo non conosce nessun confine, non conosce nessuna latitudine, sono sempre gli stessi valori. Dire la verità, scrivere al servizio del pubblico, stare attenti a quello che fa chi ha il potere e proteggere i deboli, quindi quando riporto una notizia di violenza devo stare attento a non rivelare per esempio i nomi delle persone che sono coinvolte per la loro privacy. Quindi insegnare giornalismo è facile, vederlo applicato oggi con la tecnologia che tutti conosciamo, con le pressioni che sono sempre più surrettizie, che strisciano in modo viscido e magari non ce ne accorgiamo, è quello che passa, un messaggio pubblicitario passa magari come un vero messaggio di informazione o di giornalismo. Andare a stanare quello o avere del tempo, perché poi cosa manca? Mancano i soldi, manca il denaro, manca il tempo per andare a tracciare le notizie e vedere se sono vere o se sono dicendo una formula molto in voga oggi, se sono delle fake news. Questo comporta tempo, fatica e non sempre le redazioni vogliono pagare o mettere i soldi per farlo fare ai propri giornalisti. Quindi, ripetendo e concludendo, insegnare il giornalismo è affascinante e facile, gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli che ci sono oggi nel mondo del giornalismo, quello è difficile e rimane una sfida per tutti. Lei diceva poco fa che non ha confine, parlando di giornalismo, e riportiamo questa definizione non avere confine. Anche questa storia, andando, entrando meglio nello sguardo dei nostri protagonisti, non ci sono confini, perché questi protagonisti del romanzo Quintetto testate hanno da superare i loro confini, come è giusto che sia e tutti quanti li dobbiamo superare, ma nel loro sguardo, torno a utilizzare questa parola, nel loro sguardo la parola confine non esiste. E cominciamo, Giuseppe Raudino, a entrare, a respirare quest'aria estiva, forse un po' meno calda di quella che stiamo vivendo in questi giorni, cominciando proprio dall'illustrazione di Valentina Lambini. Ce la vuole raccontare? Sì, quindi la foto, l'illustrazione in copertina sono delle silhouette, sono cinque personaggi non definiti, un camper e uno strumento musicale. Facendo poco fa con Giuseppe Raudino a proposito delle immagini di copertina e ci illustrava con queste, con le sue parole, le cinque silhouette, il camper e poi uno strumento, se non ricordo male, il corno francese. Perché proprio il corno francese? Il corno francese. Quella è stata una scelta dell'illustratrice, ma si tratta comunque di uno degli strumenti suonati da un componente del Quintetto, da uno dei componenti che formano il Quintetto. Sono il riferimento a cinque personaggi, cinque giovani siracusani che si sono appena diplomati al conservatorio e che sono stati chiamati da un loro ex docente, da uno dei docenti che hanno avuto al conservatorio con il quale ufficialmente non hanno più alcuna relazione. Ufficialmente non hanno più alcuna relazione e qui comincia per così dire l'avventura di questi cinque giovani ragazzi che abbiamo scoperto essere diplomati al conservatorio. Ma l'avventura è uno spostamento, sì, possiamo dire geografico, ma non è solamente geografico questo spostamento, Giuseppe Raudino. Ovviamente si tratta di uno spostamento che travalica i confini, ma che si può fare anche attraverso lo spirito, attraverso la conoscenza, attraverso l'insegnamento. Così come ci sono tanti alunni attenti in una classe e vengono proiettati da un bravo maestro al di fuori dell'aula, al di fuori di quello spazio chiuso e quindi cominciano a viaggiare tra paesi lontani, tra rete, angoli e geometrie, forme geometriche o attraverso esperimenti della fisica o di chimica e allo stesso modo questo viaggio è un viaggio che tocca lo spirito perché si cambia dentro. A dirla così forse sembra un po' banale, ma il vero viaggio è nella testa. Il vero viaggio è nella testa ce l'ha insegnato Omero con Ulisse, ce l'ha ricordato di nuovo Joyce, sempre con Ulisse, il viaggio avviene in un istante o avviene anche in un lasso di tempo molto ridotto. In questo caso il viaggio dura un'estate, c'è la stagione della maturità. E' la stagione, il simbolo della maturità, la maturità che cresce anche dentro ed è un incontro possiamo dire spirituale ma anche molto fisico perché necessariamente sono giovani fino ad arrivare attraverso la musica perché la musica è sì la parte principale ma la musica rappresenta anche un pretesto, mi scusi Giuseppe Rodino se forse la metto in maniera troppo sondice, un pretesto per arrivare a che cosa? Per arrivare a trovare quella giusta armonia tra i vari strumenti perché se c'è l'armonia c'è veramente una soluzione di ogni problema perché a un certo punto del libro, non ricordo dove, si dice che il musicista non è mai solo quando suona, deve cercare un'armonia con qualche cosa, con lo spartito, con quelli che suonano con lui e fino a quando si emette la prima nota, lasciando che insieme con il suono vibri una nuova emozione appena conosciuta. Ecco, con queste parole si chiude il romanzo ma queste parole in pratica ci trasportano durante tutta quanta questa avventura dei cinque ragazzi. Esattamente, proprio così l'armonia non può essere ricercata nel virtuosismo, è la stessa differenza che c'è tra erudizione e cultura. Un'erudita può sapere tantissimo o magari uno strumentista può eseguire un numero di note spaventosamente alto e senza sbavature in una frazione di secondo, però poi messo insieme agli altri non riesce a suonare perché non c'è intesa. E allora la musica è una similitudine, è un simbolo di intesa, di armonia e questa armonia deve avvenire anche a livello personale tra gli allievi. Cioè gli allievi non possono ritrovarsi così per caso in un posto e suonare bene insieme in modo armonico, devono conoscersi, devono imparare a intendersi, a capirsi e come sappiamo la musica non ha parole, la musica è puro contenuto, quindi io ascolto ma è puro significato senza che sia mediato dal significante delle parole, per esempio. Lei Giuseppe Audino suona, vero? Prego. Lei suona? E così spesso come vorrei, in passato ho suonato, sì, adesso magari quando trovo qualche minuto provo a sedermi al pianoforte, ma ecco non sono né un virtuoso né un grande suonatore, però sicuramente amo la musica, amo la musica e ho imparato anche ad amarla perché ho avuto dei maestri e dei compagni di avventura molto gravi. Ecco, compagni di avventura molto gravi, siamo collegati con Whatsapp che non è al meglio delle sue prestazioni, Whatsapp è presente anche in questo romanzo, ma funziona meglio nel romanzo, mi creda Giuseppe Audino. Ora noi però abbiamo parlato di questo viaggio, di questi cinque ragazzi che dal conservatorio di Santa Lucia affrontano questo spostamento geografico, ma è uno spostamento anche di profonda cultura perché loro devono andare a riga, esattamente in Lettonia, quindi un altro mondo, veramente un altro mondo e che succede? Succede che attraversano l'Europa spostandosi in prossimità dell'acqua, Siracusa, città di partenza e città ricca d'acqua, abbiamo il mito di Aretusa che viene trasformata in fonte, abbiamo il mito di Ciane e Anapo, vengono trasformati in fiumi, a Siracusa l'acqua non manca mai e questi ragazzi si spostano, risalgono lo Ionio, la Magna Grecia, passano per l'Adriatico, fanno un'incursione attraverso alcuni punti dell'Italia settentrionale, tra cui il lago di Garda e i laghetti della Bohemia e poi riemergono sul Baltico, quindi c'è questo spostamento fisico, man mano che risalgono scoprono che il sole in alcuni punti tramonta molto più tardi rispetto a quello a cui sono abituati loro in Sicilia, riscoprono che il sole deve attraversare una porzione più ampia dell'atmosfera per raggiungere il suolo perché c'è un'inclinazione maggiore, quindi abbiamo questo effetto lattiginoso, abbiamo questo effetto di luce bianca ma non intensa e diversa, siamo agli antipodi, là ci avviciniamo al polo nord, qui siamo più vicini al tropico e questo spostamento è anche una, vogliamo dire così, una metafora, ricalca la differenza o le differenze alle quali i musicisti si devono, con le quali si devono confrontare, quindi non si gioca più in casa ma bisogna esplorare il diverso, bisogna esplorare quello che è l'inatteso e poi ci sarà insomma il tema del ritorno perché un viaggio dura fino a quando si torna al punto di partita e si torna e si torna comunque sia, si torna Giuseppe Raudino sempre in ogni modo trasformati e qui la trasformazione in questo romanzo che si sviluppa, lo ricordiamo per circa 220 pagine, un romanzo di profonda trasformazione ma la parola trasformazione fa il paio con la parola metamorfosi e metamorfosi fa il paio con un certo Ovidio perché Ovidio in questo romanzo possiamo dire è la colonna portante. È molto presente, molto presente, si fa riferimento a tanti miti che sono stati splendidamente raccontati da Ovidio ovviamente e poi Ovidio è un pilastro della cultura latina e siamo orgogliosi e magari lo avessero gli altri a quelle latitudini un autore di questo calibro. Sotto traccia c'è sempre il ritorno alla classicità, volevo comunicare quello, l'origine Siracusa però si esplorano altri posti e si porta sempre dietro di sé questa grande ricchezza che diciamolo pure non sempre viene valorizzata come dovrebbe, magari ce ne dimentichiamo e non parlo da Siracusa, è una cultura immensa, una cultura immensa che ci aiuta a riflettere e a ponderare tanti problemi e tante situazioni che si presentano anche nell'era di Whatsapp o delle fake news. Andare sempre indietro a cercare le risposte a tante domande attuali è possibile con Ovidio e con tanti altri maestri. Eh sì, con Ovidio e con tanti altri maestri perché è un viaggio, potremmo dire un viaggio circolare questo, non solo un andato e un ritorno, non solo un andare e uno stare e un ritornare, ma un viaggio circolare per questi ragazzi anche nella classicità, qui faceva riferimento poco fa il nostro ospite Giuseppe Raudino parlando di Ovidio e parlando di Siracusa perché anche Ovidio e Siracusa sono altre due presenze molto legate e in che modo? Bene, Siracusa ci sono, il romanzo è diviso in tre parti, la prima parte è interamente ambientata a Siracusa e la, come dire, il maestro che sceglie i propri allievi, come nella migliore tradizione perché i veri allievi sono scelti dal maestro secondo me, non è che uno può decidere ok io domani voglio diventare il miglior pittore del mondo, sì posso provarci ma quando mi faccio notare ecco che ci sarà un maestro che mi adocchierà e mi dirà tutti i suoi segreti. Allora la prima parte è ambientata a Siracusa, c'è il teatro greco, ci sono i riferimenti a certi versi, poi magari c'è anche un po' di Cicerone, chissà che diceva che Siracusa è la più grande, la più bella delle città greche. Bene, poi la seconda parte è quando si viaggia attraverso l'Adriatico vicino a queste polle d'acqua sorgiva del Settentrione e lì Ovidio, il canto di Ovidio è presente perché ci sono dei versi citati o nascosti ai quali mi ispiro. Il suo intervento sulla circolarità, quello è bellissimo, io la ringrazio per aver parlato di circolarità, che non è solo nel viaggio ma è una circolarità di alternanza tra istruzione ed educazione. Educare significa tirare fuori dall'allievo, exducere e anche Ovidio ci potrebbe dire qualcosa, e istruire e proprio gettare dentro nella testa dell'allievo e c'è questo maestro che fa di questa alternanza, di questa circolarità il suo punto di forza della pedagogia che vuole imprimere ai suoi allievi. Quindi ci sono momenti in cui istruisce, dispone, dà ordini e ci sono altri momenti in cui proprio con la maieutica socratica tira fuori dalle loro teste, i loro desideri, le loro proiezioni e quello che hanno di prezioso dentro. E li fa crescere così. E li fa crescere come sono cresciuti questi cinque ragazzi in questo straordinario viaggio musicale, anche molto, molto intimo questo viaggio. Il racconto e il romanzo si intitola qui in tetto d'estate ed è pubblicato dalla casa editrice Iannieri nella collana Forsizia, ma prima di salutarci, Giuseppe Raudino, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni d'estate? In questi giorni d'estate ne ho più di uno, ma direi che sto rileggendo di nuovo il il cannocchiale del tenente Dumont di Marino Magliani, era uno dei dodici finalisti allo Strega, forse l'unico che a mio avviso meritava la vittoria e poi sto leggendo qualche opera così dal catalogo di Iannieri perché mi piace sempre provare a scoprire qualcuno che è nella stessa scuderia, diciamo, che corre insieme a me nella stessa scuderia. Tra l'altro lei ha citato poco fa. Quindi potrei farne un sacco di nomi, ma saranno i vettori. Dicevo, Giuseppe Raudino, lei ha citato poco fa Marino Magliani, che noi abbiamo avuto, se non ricordo male perché ahimè la mia memoria vacilla, ospite per un suo libro. Ebbene, Marino Magliani ci aveva raccontato dei canali dell'Olanda, o sbaglio? Quindi nella sua terra. Marino Magliani abita in Olanda, un po' come me, o meglio, io come lui. Marino Magliani anche lui è un autore che è molto legato all'acqua perché l'ultimo romanzo di cui ha scritto, questo qui il cannocchiale del Tenente Dumont, parla proprio di un continuo agognare, tra l'altro in estate, quindi un altro punto di contatto, un continuo agognare l'acqua, il mare, perché poi il mare rappresenta la fuga nel suo caso e poi lui ama il mare olandese e i canali, sì, quindi insomma l'acqua anche per lui è presente nei suoi romanzi, che devo approfondire tra l'altro. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, spiacente della qualità sonora che ci ha regalato quest'oggi Whatsapp, ma in ogni modo siamo arrivati al termine di questa conversazione. Grazie ancora Giuseppe Audino e buona giornata. Grazie per la vostra ospitalità e buon ascolto, vi ringrazio.